Nessun festaggio, ma una spinta e una caduta. Un video della polizia reso pubblico sconfessa così la ricostruzione diffusa dall'Alternativa per la Germania, partito di estrema destra tedesco, dell'aggressione ai danni del suo deputato Frank Magnitz. Il partito di Magnitz dopo le iniziali affermazioni sulla dinamica che prevedevano l'uso di un oggetto di legno come arma cominciano a ritrattare, fatto questo comunque dell'utilizzo dell'oggetto che la procura ha escluso. Magnitz è caduto di faccia per la spinta dei tre uomini che però non avrebbero continuato ad aggredirlo ma sarebbero fuggiti via. Il deputato non ricorda nulla dell'accaduto ma ammette al quotidiano Bild che potrebbe essersi trattato anche di un caso di rapina. Intanto la commissione speciale istituita per la vicenda ha deciso di derubricare l'indagine ad attentato omicidio a grave ferimento.